Stasera tornerà a riunirsi il Consiglio Comunale a Santa Venerina. Rimane molto incerta la discussione dei tre regolamenti all'ordine del giorno. L'obiettivo è almeno arrivare a discutere e votare il primo, che riguarda la programmazione comunale concernente il commercio su aree pubbliche e dei mercati dei contadini. Per il resto non dovrebbe suscitare grosse reazioni quello per la disciplina dell'utilizzo delle aree di sgambamento cani in via provinciale e via fago, aree che sono state predisposte dalla Giunta Greco nelle settimane scorse. Al Consiglio toccherà solo decidere le modalità di fruizione. All'ordine del giorno stasera anche il regolamento per il riconoscimento delle unioni civili.